Avvocato, lei questa realtà la conosce già e la conosce bene, stamani appunto questa nuova visita, troverete quello che avete lasciato? Sicuramente sì, noi facciamo periodicamente delle visite sia ispettive sia visite, diciamo così, da definire di solidarietà per i detenuti del nostro carcere. Abbiamo realizzato nel 2015 una mostra fotografica di denuncia delle condizioni inumane di questo carcere di Pisa, che è l'emblema un po' di quello che si ripercuote per tutte le carceri italiane. Sappiamo perfettamente che troveremo la stessa identica situazione, perché dal 2015 ad oggi sicuramente non è stato ristrutturato. Non ci aspettiamo di trovare un ambiente umano che rispetti i canoni prescritti dall'Unione Europea e dalla nostra legislazione. Noi sappiamo che è una situazione tragica, questo carcere come le carceri italiane per quanto ci riguarda deve essere chiuso, perché se questa è l'esecuzione della pena, questo non è quello che noi vogliamo vedere. Gli studi ci dimostrano che chi sconta interamente la pena in carcere, quando esce non è riabilitato e quindi torna a commettere reati, perché non sono stati risolti i problemi. Anche in questo carcere, io dalla scheda che ho visto del Ministero della Giustizia, le schede che dopo tanta fatica abbiamo ottenuto, di attività non ce ne sono molte. Ci sono solo, da quello che ho capito, lavori interni al carcere e i fondi per le Mercedes sono stati pure tagliati all'inizio di quest'anno. Questi luoghi sono non chi ci abita, chi ci vive, chi è detenuto, ma il luogo in sé è irriformabile, è irredimibile, è un ferro vecchio della storia della civiltà umana. Un luogo che continuiamo a chiamare, ma non ce ne rendiamo conto, luogo di pena, istituto penitenziario, cioè costituzionalmente volto a infliggere sofferenza e dolore. Ci siamo liberati della pena di morte, della schiavitù, della tortura, dei manicomi, dei lazaretti, li abbiamo concentrati tutti in questo luogo detto di pena. Giustamente, perché si pena qui.